La notizia del giorno qui a Miami è che oggi la Ocean Drive è diventata oggetto di un fenomeno descritto come disturbo della quiete pubblica. Sei pronto? Scherzi, vero? La domanda che tutti ci fanno è... Chi sono i mob? Sai ballare? Ti spiego come funziona. Tu mi balli intorno e io divento un figo. Che fai domani sera? Non hai mai desiderato di far parte di una cosa speciale? La crew è il nostro modo di gridare al mondo. Noi esistiamo. Voglio entrarci. Sarai la star. È la tua iniziazione. I loro video hanno invaso il web, trasformando questi ballerini in un fenomeno culturale. 200.000 contatti in cinque ore. Mai sentita la Anderson Global Properties? Sto per iniziare la costruzione del più grande albergo di Miami. Ha comprato tutta questa zona. Le case, i negozi. È tutto suo. Dobbiamo fermarlo. Basta con l'arte per pura esibizione. Dobbiamo protestare. Non siamo in vendita. Possiamo cambiarle le cose. No. 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 No.